Oggi a Torre del Grifo è stato presentato ufficialmente Marco Biagianti, per lui è un ritorno con la casacca rossa azzurra. Sarà lui il capitano del Catania. Ecco le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa. Dove eravamo rimasti? Un'altra settimana prima. Buongiorno a tutti, sono emozionato, molto emozionato. Mi piacere essere qui di nuovo con tutti voi. Zibbert, a meno di miracoli, andrà alla Juve Stabia. L'Omonoco annuncia nuovi colpi di mercato del Catania e infine Marco Biagianti risponde alle domande dei giornalisti sul suo ritorno al Catania. Invece appena mi ha detto questa notizia è stata una sorpresa, una bella sorpresa, perché comunque lui, anche per i tifosi del Catania, ha dato veramente tanto a questa città, così come il Presidente, insomma, tutta la gente che ha passato di qua. Era forse in questo momento una delle opzioni più importanti per risalire e quindi mi ha fatto veramente piacere. Adesso sono felice di essere qui e più carico forse di prima di far bene con questa squadra. È un campionato difficile, lo sapete bene, l'avete visto anche l'anno scorso, quindi sarà molto difficile. Però, diciamo, il Direttore sta facendo una buona squadra e anche se, come ho detto prima, il gruppo forse è la cosa più importante da fare. Cercheremo di dare battaglia, di lottare come è giusto che sia in prima persona per tutti i ragazzi che vogliono far strada e che devono avere voglia e fame di crescere, di migliorarsi e anche, naturalmente, per tutta la città interna. Ci auguriamo il prima possibile, naturalmente, di risalire. Ripeto, è un anno particolare, sarà un anno spero bello, ma il campionato è difficile. Quindi noi sicuramente ce la metteremo tutta per tornare il prima possibile in Serie B e, naturalmente, spero da quest'anno. E, infine, su quale sarà il suo ruolo, ho piaciuto di rispettare. Il mister, alla fine lo vedrete, farete stessa domanda. Negli ultimi anni ho accantonato un po' il play basso, però, meno male, anche quando ero qua con Mijelvic l'ho fatto spesso e, insomma, anche le mezzale mi hanno fatto sia a destra che a sinistra, quindi, per me è uguale, nel senso, poi vedremo. Grazie, grazie.